L'Istituto Tecnico Agrario Ridolfi di Scerni è l'unico istituto che negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento consistente di alunni e iscritti e non può continuare a rimanere in reggenza o, peggio ancora, essere aggregato ad altri istituti per scelte dettate da altre logiche che non sia il mero piano formativo provinciale. Questa è la richiesta ufficiale avanzata dall'amministrazione comunale di Scerni al presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio. La provincia di Chieti, afferma l'assessore comunale Daniele Carlucci, si assuma ogni propria responsabilità nel varare il nuovo piano scolastico e spero che tenga conto sia del più completo e adeguato piano formativo sia delle complesse esigenze territoriali. L'amministrazione comunale di Scerni torna a chiedere la dirigenza o verticalizzazione territoriale per una propria autonomia presso l'Istituto Tecnico Agrario Ridolfi vista la sua storia, centralità, peculiarità e unicità riconosciuta in tutta la provincia di Chieti e territorio regionale. Infatti l'Agrario, spiega Carlucci, è l'unico istituto con una propria azienda agricola, una cantina, un convitto da gestire, molteplici laboratori, nonché una nota storia territoriale per il mondo agricolo e quel prestigio e quella centralità tanto faticosamente conquistato nel corso degli anni da tutti coloro che a bario titolo hanno profuso le proprie energie e il proprio impegno per il suo sviluppo. La dirigenza è lo status essenziale per salvaguardare questo patrimonio culturale e sociale che l'Agrario riveste all'interno del nostro territorio e di tutta la provincia di Chieti.